Date le circostanze internazionali, dunque è sempre più importante parlare di pace. Paola, lo facciamo in maniera particolare stamattina. Sì, questa mattina andiamo a Bologna, 25 e 26 settembre, terza edizione del Festival Nazionale del Servizio Civile, un tema molto importante e allora ne parliamo con la Presidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, e Laura Milani in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno Laura, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito. E allora partiamo subito dal tema che avete scelto per questa terza edizione del Festival Nazionale del Servizio Civile. Sì, beh, il titolo stesso del Festival è La pace non si aspetta, si prepara. L'abbiamo scelto perché innanzitutto il Servizio Civile ha come finalità la difesa non violenta della patria e significa che ha proprio il mandato di costruire una pace positiva intesa non tanto come assenza di guerra, ma come promozione dei diritti, come promozione dell'inclusione, favorire la coesione sociale, eccetera. Quindi abbiamo pensato a un Festival che parli di pace nelle sue varie declinazioni, partendo dal presupposto che ogni cittadino ha la responsabilità nel suo piccolo di costruire pace senza delegare agli altri. Quindi il Festival declina appunto il fare pace in vari modi, nel protagonismo giovanile, quindi come i giovani e il protagonismo giovanile può contribuire alla costruzione della pace, piuttosto che la tutela dell'ambiente, quindi il contrasto ai cambiamenti climatici, piuttosto che il fare pace con le parole, quindi la comunicazione come strumento di pace. E poi non potevamo non avere uno sguardo sull'attualità, quindi uno dei talk del Festival sarà dedicato proprio all'obiezione alla guerra. e avremo come ospite Alessandro Bergonzoni in dialogo col presidente del Movimento Non Violento, Mauva Alpiana, in modo da portare anche delle riflessioni rispetto alla guerra in Israele e Palestina, uno sguardo alle guerre in generale e anche delle testimonianze di obiettori di coscienza, di obiettori alle guerre in questo momento. Quindi attraverso questi talk cercheremo di parlare di pace, ma lo faremo anche con delle testimonianze, diciamo con degli intermezzi, chiamiamoli così, insomma, in cui ci saranno testimonianze di giovani in servizio civile, di operatori degli enti, che magari fanno un lavoro di costruzione della pace e che potremmo definire invisibile, no? Proprio perché è quotidiano, perché è fatto di buone pratiche e che spesso, diciamo, non viene raccontato, ma che costruisce pace giorno dopo giorno. Dunque, un momento davvero di incontro e di festa. Un ultimo minuto, Laura, che voglio dedicare anche, visto che il mio collega Tonia Oggello è amante della musica, ci sarà anche uno spazio, un contest, ecco, dedicato alla musica e a musicisti emergenti under 30, giusto? Esatto. L'idea è proprio quella di parlare di temi, no? Della pace, anche in modo leggero, anche attraverso la musica e quindi abbiamo pensato a un contest aperto a band e artisti under 30 e proprio su, diciamo, per portare, ecco, canzoni e musica legate proprio al tema della pace. Per approfondire davvero tematiche importanti legate all'attualità, appuntamento 25 e 26 settembre a Bologna, presso il Dumbo Space, per la terza edizione del Festival Nazionale del Servizio Civile. Noi, come dire, vi seguiremo, Laura, anche attraverso aggiornamenti, attraverso il sito della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, ai vostri social, così, ecco, appunto, aggiorneremo i nostri telespettatori su questo importante appuntamento. Grazie, Laura Milani, presidente della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, buon lavoro, buon lavoro. Allora, Toni, se abbiamo ancora qualche minuto, se mi concedi ancora qualche minuto, stando alla scaletta, vorrei andare, innanzitutto abbiamo un aggiornamento, quindi leggo proprio in questo istante il nostro riferimento, è l'ADN Kronos, perché sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna, dispersi per la piena del torrente Sterza, Montecatini, Val di Cecina, siamo nella provincia di Pisa, la famiglia si era rifugiata sul tetto dell'abitazione a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua, sono stati salvati sul tetto padre, madre, nonno, turisti stranieri e i vigili del fuoco ora sono impegnati appunto nella ricerca di questo bimbo di 5 mesi e della nonna. E tornando sulle notizie, allora vorrei segnalarvi questa buona notizia, nel senso che parliamo di un rapporto molto interessante, un rapporto ISAT sul benessere, perché a quanto pare, ma forse già lo sapevamo, gli amici fanno la felicità, gli amici ti aiutano nel momento del bisogno, migliorano la qualità della vita e del tempo libero, si impegnano insieme per rendere più civili le comunità. Nella vita quotidiana della nostra società sono sempre più importanti, e quindi abbiamo avuto la conferma anche dai dati che l'ISTAT raccoglie annualmente su circa 24 mila famiglie di tutto il paese e inserisce nel BES, che è il rapporto sul benessere eco e sostenibile. Se nel 2022 era 79,6%, la percentuale degli italiani a essere abbastanza molto soddisfatto per le reti di amici, nel 2023 la quota è salita all'81%. La buona notizia è che calano gli insoddisfatti per le proprie amicizie e cresce anno dopo anno l'appagamento per le reti amicali sempre più necessarie per vivere bene. Le donne ci possono contare un po' meno perché hanno meno tempo libero rispetto agli uomini da dedicare agli amici. Per gli anziani invece avere buoni amici è sempre più difficile, perché solitudine e isolamento minacciano la loro serenità. E viviamo di relazioni, quindi questo è un po' il sunto di quelli che sono i dati dell'Istat, anche se molte volte si cura l'aspetto social, quello online, come strumento anche per coltivare le proprie amicizie. Quindi davvero molto interessante questo rapporto Istat. Vediamo se riusciremo nei prossimi giorni anche magari a fare un approfondimento con qualcuno dell'Istat proprio su questa notizia. Velocemente andiamo sulla DN Cronos per altre notizie. Sì, andiamo a Napoli dove i carabinieri di Poggio Reale hanno arrestato 15 persone con l'accusa di usura e distorsione con tassi di oltre 100% di interesse. Quindi 15 persone sono state arrestate. Questi indagati avrebbero estorto denaro a due uomini di Poggio Reale che avrebbero contratto debiti con tassi usurari spesso superiori al 100% mensile. Bene, Togli, non abbiamo altre notizie. Ti restituisco la linea. Grazie Paola. Ci ritroveremo nel corso della puntata. Intanto, prima di dare la linea alla regia abbiamo alcune altre cartoline digitali che sono giunte al 331 737 8033. In maniera particolare saluto Vittorio da Venaria Reale che ci invia uno scatto dal santuario di Mellana in provincia di Cuneo. Grazie Vittorio. E poi un bellissimo scatto che ci invia Brunella Piappavone che ha partecipato, come fa da 45 anni a questa parte, alla veglia di San Pio da Pietrecina con il suo nutrito gruppo Padre Pio da Campobasso. Grazie Brunella. E poi la nostra comunità di Militello San Benedetto Abate c'è il nostro amato Padre Pio. Ecco, siamo fieri di essere vicino a lui. Ci dice la didascalia di questa foto che però non porta nessuna firma. Mi raccomando, non dimenticate di scrivere il vostro nome come ha fatto Maria da Vittoria di Ragusa, in provincia di Ragusa che evidentemente anche in Sicilia hanno festeggiato il nostro amato Padre Pio. e poi Edda da Anzola dell'Emilia provincia di Bologna anche lei devotissima di Padre Pio ci manda questa foto che campeggia sul suo comodino. Grazie. Bene, continuate a scriverci se vi fa piacere. A noi sicuramente fa tantissimo piacere ricevere i vostri scatti. Ora ci fermiamo soltanto un attimo poi torneremo insieme per parlare di salute in quella che oggi martedì 24 settembre è anche la giornata nazionale del respiro e delle malattie respiratorie. A fra pochissimo.